E' uno dei luoghi più belli e suggestivi della nostra Italia. Storia e tradizioni si mescolano ad un paesaggio che trasmette fascino ed emozioni. L'Alto Cadore è nel cuore delle Dolomiti e San Vito di Cadore che ospita la Salernitana in questi giorni, una delle località più belle. In questo fine settimana i salernitani che vivono al nord o nella vicina Austria hanno scelto proprio questo angolo dell'Italia per trascorrere qualche ora di relax. Per chi vive a Salerno raggiungere San Vito di Cadore non è certo agevole. Il viaggio è lungo, lunghissimo, certo. Più facile farlo in aereo o treno con destinazione Venezia e da lì poi salire comodamente in autostrada fino a Belluno e poi seguire le indicazioni per il Cadore, per Cortina, regina del turismo VIP. E percorrendo i tornanti che conducono San Vito di Cadore, località a 9 km proprio da Cortina, si intuisce facilmente dalle auto in circolazione il turista che si dirige verso una delle località turistiche italiane più esclusive. Il viaggio in auto è però particolarmente bello. Le montagne sono maestose. Fino a qualche giorno fa da queste parti ha nevicato oltre i 2000 metri. Il sole picchia di giorno ma è un caldo secco e di sera la temperatura è gradevolissima. Ci sono tante località da ammirare ed altre tristemente famose come il Longarone, sottostante alla dica del Vaion, lì dove la mano dell'uomo ha sfidato la forza della natura provocando morte e distruzione. San Vito di Cadore si raggiunge anche attraverso il Brennero. Da Bolzano c'è una comoda strada veloce che conduce fino a Cortina. Il fine settimana, con le spiagge lontane, è l'occasione per tanti per scoprire da queste parti laghi, fiumi e vallate e vivere l'atmosfera delle Dolomiti all'aria aperta, sfruttando gli enormi spazi attrezzati a disposizione di tutti.